Sì, sicuramente questo è il miglior stadio dove abbiamo giocato finora, abbiamo giocato anche con l'Olympiakos, con altri avversari, è stato bello, però ovviamente San Siro è uno stadio con una storia tutta differente, quindi siamo contenti, allo stesso tempo siamo qua per giocare e speriamo di fare un'ottima prestazione. Paura ovviamente non è la parola giusta, sappiamo che un giocatore di classe mondiale l'ha già dimostrato più volte e lui è sempre pericoloso, anche piuttosto che concentrarsi sul lavoro individuale l'importante è difendere collettivamente bene, poi ovviamente è impossibile evitare che tiri in porta anche solo una volta, ad esempio all'andata lui ha segnato il gol ma globalmente credo che l'abbiamo controllato bene e quindi ho fiducia nei nostri difensori perché rifacciano una partita simile a quella dell'andata. Si è sempre felice ovviamente di sentire delle parole del genere da parte di una persona, di un allenatore come Gattuso e ha sicuramente ragione perché all'andata abbiamo giocato bene collettivamente, senza paura, abbiamo perso però e domani sarà un'altra partita e credo che giocando ancora bene di gruppo possiamo fare buone cose a patto che non si commettano errori individuali come è già accaduto contro l'Olympiacos.